La scarsa visibilità, la decisione del pilota di proseguire lo stesso la missione, il suo limitato allenamento al volo strumentale e la perdita di consapevolezza situazionale sono le cause che hanno significativamente contribuito all'incidente avvenuto lo scorso 24 gennaio a Campo Felice, dove un elicottero lo scorso anno si schiantò contro un monte provocando la morte delle sei persone a bordo del personale del 118. Sono questi i risultati dell'inchiesta condotta dall'Agenzia Nazionale per la Sicurezza del Volo, un'inchiesta che ha finalità esclusivamente di prevenzione, non di individuazione di eventuali irresponsabilità. L'elicottero decollato dall'aeroporto dell'Aquila di Preturo per soccorrere uno sciatore che si era infortunato, poi ripartito alla volta dell'ospedale dell'Aquila, si schiantò due minuti dopo il decollo sul versante sud-ovest del Monte Cefalone a 1840 metri di quota. L'inchiesta dell'Agenzia ha accertato che non vi era inefficienza né dell'elicottero né dei sistemi di bordo che possano aver causato o contribuito all'incidente, tantomeno sono emerse delle avarie. Piuttosto va rilevato, secondo l'Agenzia, che le condizioni di visibilità nella parte iniziale in quella centrale della piana di Campo Felice erano degradate rapidamente nell'arco temporale compreso tra l'andata e il ritorno, riducendosi a poche decine di metri. Il rapido deterioramento delle condizioni di visibilità, secondo l'Agenzia, viene indicato come una delle cause che hanno determinato l'incidente. Ma accanto a questo ce ne sono anche altre, secondo l'Agenzia del Volo, come la decisione del pilota di proseguire ugualmente la missione, una volta realizzato che le condizioni di visibilità presenti non avrebbero consentito di proseguire il volo, cioè, secondo le regole del volo a vista, la perdita di consapevolezza situazionale causata dal probabile disorientamento spaziale sofferto dal pilota in condizioni meteorologiche di volo strumentale e poi il limitato allenamento alla condotta strumentale del volo. All'incidente potrebbe aver contribuito, sempre secondo l'Agenzia Nazionale per la Sicurezza del Volo, l'assenza in cabina di pilotaggio del tecnico EMS, che ha privato il pilota di un migliore supporto alla sua attività decisionale di condotta. A conclusione dell'inchiesta, la NSV ha emanato a fini di prevenzione 5 raccomandazioni di sicurezza, con lo scopo di rimuovere alcune criticità emerse nel corso delle indagini.